Bene, proporrò tutta una serie di video su un argomento, un tema molto importante in psicologia, ma soprattutto in psicanalisi, che è l'angoscia. Cominceremo con Freud, perché è lui che ha cominciato a sviluppare tutta una serie di osservazioni, di considerazioni, di teoria sull'angoscia. Oggi ci occuperemo di una distinzione che Freud fa nel 1915 e che rimane, questa descrizione, questo sviluppo di attualità è sempre valida, tra angoscia reale e angoscia nevrotica. Oggi ci occuperemo soprattutto dell'angoscia reale e la prossima volta vedremo l'angoscia nevrotica. Certo, per Freud è più importante interessarsi e sviluppare tutto quello che è intorno all'angoscia nevrotica, piuttosto quella reale, ma nonostante tutto, nonostante ciò, vedremo come quello che descriveremo adesso è di una precisione che tutti quanti gli psicologi non possono che condividere. Cominciamo con una semplice definizione di angoscia. Angoscia è una reazione emotiva di fronte alla percezione di una situazione pericolosa, di fronte a un pericolo. Ripeto, l'angoscia è ciò che si produce, una reazione emotiva di fronte alla percezione, quando si percepisce un evento, un oggetto come pericoloso che ci può arrecare danno. E Freud va a analizzare nei dettagli tutte le parti che compongono un po' questa definizione. E più precisamente, che cos'è l'angoscia in quanto, quando si dice reazione emotiva, cioè di che cosa stiamo parlando? L'oggetto della paura, che cos'è che ci produce, quale oggetto produce paura? E i comportamenti, quali comportamenti vanno a realizzarsi quando si è presi dall'angoscia? Cominciamo con la reazione emotiva. Freud dice che l'angoscia è un affetto. Questa è la prima cosa, dunque, l'angoscia è un affetto e lì si trova su un terreno molto conosciuto da lui, visto che si è occupato, da sempre si occupa da sempre dell'affetto. E per Freud l'affetto è composto da due aspetti. Un primo aspetto è la percezione delle sensazioni, sono delle sensazioni che noi percepiamo. dunque, sensazioni. E l'altro aspetto è l'aspetto di nervazione, di scarica motrice. scarica motrice. Per cui, l'angoscia è un affetto, e questo affetto è composto da percezione e sensazioni e da una scarica motrice. Ma Freud non si limita a questo. Vuole scoprire anche più nei dettagli cosa sia questo affetto. Come sappiamo, l'affetto per lui va negli aspetti del piacere, di spiacere. Cosa si tratta qui di questo affetto? Ebbene, la definizione che dà di questo affetto è il ricordo, la reminiscenza di un evento effettivamente vissuto come traumatico dagli uomini e trasmesso di generazione a generazione, cioè trasmesso filogeneticamente. Questo evento traumatico cosa potrebbe essere? Beh, l'evento traumatico in questione è la nascita. La nascita è un evento traumatico che è stato trasmesso di generazione a generazione. Per cui, anche se uno nasce col parto cesareo, avrà sempre questa reminiscenza. E questa reminiscenza, Freud questo aspetto qui lo chiama simbolo simbolo nesico. Dunque, il simbolo nesico è quest'immagine, questo vissuto dell'esperienza traumatica, che certo non viene come immagine, ma come percezione. Dunque, è un simbolo omnesico, cioè sta per quell'esperienza traumatica che viene a riprodursi quando si ha l'angoscia. Dunque, si riproduce soprattutto le sensazioni, le sensazioni e il tipo di scarica motrice. In effetti, Freud dice, nell'esperienza della nascita si ha un'esperienza traumatica con un'azione sull'attività cardiaca e sulla respirazione, che sono due aspetti che caratterizzano l'angoscia. L'attività cardiaca, che aumenta, e la difficoltà di respirare. E questo è a collegarsi anche con l'origine della parola angoscia. L'angoscia deriva dalla parola latina angustia, che significa ristretto, cioè come si vive un'esperienza in un spazio ristretto, si ha difficoltà a respirare. Passiamo adesso all'altro aspetto, che è quello dell'oggetto della paura. Allora, l'oggetto. Che cosa ci fa paura? Beh, ci fa paura delle situazioni o degli oggetti che non conosciamo o che conosciamo molto bene. Questa è la distinzione che fa Freud. E poi, in funzione anche delle nostre capacità, cioè della valutazione che abbiamo sul momento, della nostra capacità, di poter fronteggiare questa situazione di pericolo. Per quanto riguarda la conoscenza, che è un punto molto importante, dice, fa l'esempio di un selvaggio che si trova di fronte a un'eclisse. Ebbene, lo vivrà con un'esperienza di paura, con angoscia. Ecco, approfitto anche per dire che per Freud usa, utilizza indifferentemente paura e angoscia. Solo verso la fine poi ci dirà qual è la differenza tra queste due parole. Noi continuo, il selvaggio vivrà quella situazione, di questo fenomeno naturale, con l'angoscia. Mentre noi, di fronte a questo fenomeno naturale, che lo conosciamo molto bene, ebbene, lo viviamo anche con curiosità. Dunque, questo è mancanza di conoscenza, mancanza di conoscenza. L'altro è grande conoscenza. Prendiamo un esperto navigatore. Si trova di fronte sul cielo, di fronte a una nuvola, e comincerà ad avere una certa ansietà, perché quello è il segnale dell'arrivo di un uragano. Mentre colui che non conosce, non sa di questo nuvola bene, guarderà la nuvola così con indifferenza. Ecco qui, come la grande conoscenza può attivare uno stato d'ansietà. Vediamo adesso l'ultimo punto, che sono i comportamenti. I comportamenti che si possono attivare e realizzare quando si è di fronte a questa situazione di pericolo. Bene, i tre comportamenti possibili sono uno, la fuga, la difesa e l'attacco. Questi sono i tre comportamenti che possono essere realizzati. Ma Freud si dice, ma per realizzare dei comportamenti così sarebbe molto più appropriato rimanere calmi di fonte al pericolo e fare una valutazione razionale del pericolo in sé e delle capacità che uno ha per scegliere meglio quale di questi tre comportamenti vanno realizzati. Ed è lì che Freud introduce una differenza importantissima, che è la differenza tra uno stato ridotto di angoscia che chiama un segnale d'angoscia quindi mettiamo quindi segnale d'angoscia oppure preparazione all'angoscia che cos'è? E' la presenza di un po' di angoscia che di fatto risulta essere efficace perché quando sorge un po' di angoscia questo mette in atto la presenza di due aspetti importanti che è uno l'aumento dell'attenzione siamo molto più attenti a quello che ci capita a quello che è di fronte a noi siete di fronte a un cane minaccioso lì comincia questo segnale d'angoscia che va a aumentare questa attenzione questa vigilanza e saremo lì attenti a tutti i dettagli l'altro è l'attenzione muscolare l'altro è l'attenzione muscolare nel senso che il corpo è pronto a reagire i muscoli sono tesi questo è quello che produce il segnale d'angoscia mentre se questo segnale d'angoscia aumenta aumenta sempre di più e che si sviluppa l'angoscia ecco che non si ha più nella capacità di realizzare uno di questi tre comportamenti perché siamo inibiti per cui l'altro comportamento che può scattare è l'inibizione che questo scatterebbe con lo sviluppo dell'angoscia per cui riprendendo la definizione di angoscia ecco l'angoscia reale è razionale di fatto dunque razionale appropriato di fatto il segnale d'angoscia è appropriato perché permette allo spirito e al corpo di prepararsi all'eventualità di questi comportamenti fuga, difesa, attacco mentre lo sviluppo d'angoscia quello è inappropriato perché porta all'inibizione ed è quello che oggi chiameremmo un attacco di panico un attacco di panico è quando si è sopraffatti da quest'angoscia il cuore che batte a mille e non si riesce più a reagire si è sopraffatti dall'angoscia e per concludere Freud si interessa anche alla distinzione linguistica tra tre parole che è l'angoscia la paura e lo spavento dice Freud è sempre attento così alle differenze linguistiche è molto attento alle parole dice se c'è una distinzione non c'è deve essere pure un motivo il motivo sta che nell'angoscia ci si focalizza di più su quello che è ecco l'angoscia come stato emotivo per cui il segnale d'angoscia lo sviluppo d'angoscia mentre la paura ci si focalizza di più sull'oggetto della paura sull'oggetto l'oggetto mentre nello spavento lì si vuole indicare quella situazione in cui non c'è il segnale d'angoscia o preparazione all'angoscia cioè che si salta questo stadio e che si è direttamente presi da quei momenti di fronte allo spavento di fronte al pericolo e vorrei dire una cosa per concludere trovo che c'è un'imprecisione da parte di Lacan che nel suo seminario dedicato all'angoscia va a richiamare l'attenzione per qualche pagina su la distinzione che Freud fa tra angoscia e paura dicendo che la paura per Freud ha un oggetto da quello che ho spiegato fino adesso non si vede questa distinzione per Freud non c'è una distinzione effettiva cioè quando parla dell'angoscia reale è solo quando va così a precisare perché c'è un utilizzo differente di tre parole che si riferiscono a questo stato uno stato di angoscia di paura bene alla prossima video a vederci a Grazie.